Che cosa ci vuole per far funzionare un comune? Ci vuole innanzitutto sapere chi fa che cosa, mettere le persone giuste nei posti giusti e fare in modo che ognuno faccia quello che deve fare, ma non perché lo deve fare, ma lo faccia con quello che io chiamo l'orientamento al cittadino. Creare un gruppo insieme anche al direttore, in modo tale da far sì che i cittadini di Ancona abbiano la percezione che il comune lavora per loro. Così, l'area nuova al comune di Ancona ha il volto determinato di Giancarlo Gasparini, 62 anni di Ostra, attualmente in pensione, e il viso più rassicurante ma altrettanto deciso di Giuseppina Cruso, 44 anni, di Foggia, una carriera nei comuni italiani dal nord al centro, ora segretario comunale d'Orico. Un investimento risposto a chi le chiedeva perché non risparmiare con un unico manager, il sindaco Valeria Mancinelli, nel presentarli. Così la sintonia tra i due sembra già collaudata. Sappiamo esattamente di che cosa si parla, quindi anche soltanto dagli sguardi che stamattina ci siamo lanciati in giunta sulle cose da fare, sarà facile collaborare. In modo appunto che giri tutto come una macchina perfetta o quasi. Per il nuovo direttore subito un incontro con le RSU comunali e con i dirigenti, per il segretario tanto studio, a partire dai regolamenti comunali da rivedere.